un saluto a tutti gli amici cripto di vaso di pandora ben ritrovati io sono egno caruccio e questo è il quinto video verso il mondo delle criptovalute sono quattro argomenti più l'introduzione rispondiamo subito alle domande prima faccio una piccola premessa siccome oggi faremo l'operatività quindi andremo a vedere veramente la pratica di come mettere a rendita le nostre cripto e ho il dovere di dirvi che non sono consigli finanziari quindi io vi dico cosa si può fare come si può fare dopodiché le somme e cosa intendete investire in questo mondo lo decidete voi io posso solo dirvi e farvi esempi di messe a rendita quindi non sono consigli finanziari detto questo partiamo subito con le domande allora qualcuno mi chiede di google authenticator google authenticator non è una cosa da neofiti nel senso non è una cosa semplicissima se ci trovate qualche difficoltà ci sono altri sistemi allora ripeto un'altra volta google authenticator serve come sicurezza per le vostre operazioni è un qualcosa che assicura che nessuno possa fare operazione al posto vostro però al posto di google authenticator potete mettere come sicurezza l'email con il telefono quindi invece che avere un codice che vi compare nel telefono e vi dà la conferma e la sicurezza tramite l'exchange perché questo a google authenticator l'email e il telefono valgono per tutti gli exchange quindi è un sistema che usano tutti gli exchange per evitare che qualcuno faccia operazioni nel vostro conto corrente cripto al posto vostro quindi potete farlo anche come email nel senso quando fate un'operazione vi arriva un codice via email voi date l'ok loro sanno che siete veramente voi e potete fare l'operazione quella stessa cosa con il numero di telefono io uso google authenticator perché secondo me è più sicuro però se vi trovate difficoltà oppure all'inizio potete farlo con l'email importante che una di queste tre le facciate non lasciate senza sicurezza il vostro conto corrente cripto nell'exchange qualcuno mi chiede rendite sono settimanali mesi allora tutte le rendite le percentuali di rendita che vi dico sono sempre su base annuale quindi se io dico il 7 per cento 10 per cento 12 per cento sono sempre su base annuale poi sono le i pagamenti di queste percentuali che possono darveli settimanalmente alcuni addirittura giornalmente mensilmente o dipende da exchange ad exchange qualcuno mi chiede gli eredi e la quente io diciamo così abbino queste due domande insieme eredi e cointestazione del conto corrente allora dunque facciamo questo quando si ha un wallet privato si ha una password lunghissima sono 12 o 24 parole quindi in quel caso lì se non avete le 12 o le 24 parole e non riuscite a recuperare quello che c'è in questo wallet in questo portafoglio poi vedremo i wallet questo per darvi la differenza mentre se avete i vostre le vostre cripto su un exchange l'email e la password bisogna saperle per entrare quindi la cointestazione o l'eredità dipende se sapete queste queste due cose quindi l'email e la password nel senso che io sono marito e moglie non posso dare due nominativi di intestazione del conto corrente cripto nell'exchange devo darne solo una ma se l'email e la password abbiamo tutti e due praticamente è come fosse cointestato però deve essere solo una persona singola perché questo per l'anti riciclaggio per non permettere a persone di intestare il conto intestarsi il conto corrente per altri tutto qua quindi la una persona soltanto può avere l'intestazione del conto corrente cripto dopo l'email e la password può darla a chiunque e chiunque può operare cointestato e condiviso questo è il discorso l'eredità se qualcuno esempio non so dovesse morire facciamo facciamo questo esempio e non avesse magari l'erede non avesse l'email e la password secondo me tramite documenti si può intervenire con l'assistenza di questi exchange provare documenti provare che la persona è morta che la persona ha lasciato quel conto corrente di essere gli eredi tutti i centri tutti gli exchange hanno un centro di assistenza e penso non ci siano problemi non mi è mai capitato a dire la verità infatti quando ho visto la domanda non ci avevo mai pensato non ci avevo mai pensato però c'è un centro di assistenza se uno ha i documenti se uno ha tutto può recuperare tutto su un exchange mentre sul wallet è un po più complicato perché lì è una cosa vostra come perdere il portafoglio per strada è difficile che se non ci sono i documenti dentro riuscire a ritracciare il proprietario quindi però lo vedremo quando faremo i wallet per l'exchange vi ho detto basta avere i documenti e contattare l'assistenza tecnica qualcuno mi chiede del cambio residenza sempre la stessa cosa contattate l'assistenza tecnica tutti gli essenti ce ne hanno una chi meglio chi peggio alcuni ce l'hanno con delle chat alcuni ce l'hanno telefonica alcuni ce l'hanno sui social tipo twitter telegram eccetera però riuscite a contattarli e risolvere i problemi qualcuno mi chiede critto oltre alla percentuale di rendita se si hanno si possono prendere anche l'aumento o la diminuzione di queste critto certo cioè se io investo in stable coin io ho una percentuale fissa ma se ho una critto che avuta volatilità e quindi va su e giù alle volte io non lo consiglio però alle volte può succedere di prendere sia la percentuale che l'aumento oppure se questa critto diminuisce di prezzo mandare in fumo tutta tutta la percentuale di rendita che avete fatto quindi è sempre comunque un rischio sulle critto diciamo che al lungo termine di solito una critto sale sempre di valore almeno da quando sono nate sono sempre salite quindi se uno intende come si dice nel nostro mondo holdare quindi tenere una critto per sempre quindi comprarla e non venderla e diciamo così fare un trading di questa critto ma tenerla e aspettare che salga allora sì allora sì diciamo che è molto probabile che questa critto aumenti di valore nel tempo nel lungo periodo poi qualcuno mi chiede stato patrimoniale e ritorniamo allo stesso discorso di prima stato patrimoniale gli exchange lo chiedono più che chiedere lo stato patrimoniale ti chiedono da dove derivano i soldi perché se uno mette certe cifre diciamo così loro hanno la responsabilità per legge di chiedere la provenienza di questo denaro ed è come nel caso che abbiamo visto prima sempre per un discorso di anti riciclaggio loro sono obbligati a chiedere se uno deposita 10.000 20.000 30.000 devono chiedere da dove arriva questo denaro poi uno può scrivere quello che vuole può scrivere eredità può scrivere vendita immobiliare comunque loro hanno l'obbligo di chiedere queste informazioni poi qualcuno mi chiede stable coin con stable coin perché cambiare stable coin con stable coin diciamo può sembrare una cosa assurda perché non cambiano di valore come abbiamo visto sono sempre un dollaro tutte quante però c'è differenza di percentuali di remessa rendita quindi io posso cambiare una stable coin che mi rende il 7 con una stable coin che mi rende il 10 diciamo altri due stable coin perché l'altra volta abbiamo detto usdc che è la stable coin praticamente di coinbase e usdt peter che tra l'altro è una stable coin italiana fondata da italiani e poi c'è dai e poi c'è usd per esempio usd che è la stable coin della rete terra della blog c'è in terra questo può magari rendere qualcosina in più delle altre ci sono dei posti dove si trova anche una buona percentuale quindi stable coin con stable coin si cambia perché una può rendere più dell'altra questo è l'unico motivo per cui si può cambiare tra le due stable coin qualcuno mi chiede kraken allora ne nominiamo altri sono altri exchange kraken poi c'è kucoin c'è gate.io gate.io poi c'è per esempio wobi wobi global poi cosa c'è più bitpanda panda per esempio ce n'è una buona che io ultimamente ho messo a rendita le mie stable coin esattamente ho messo a rendita gli usdt questi tether che vi dicevo e 12,3 per cento si chiama you hodler non è conosciutissimo però l'iscrizione è sempre uguale per tutti quindi se decidete uno di questi qua vanno tutti bene naturalmente se è possibile è meglio diversificare quindi se avete tipo 1000 euro potete fare 200 200 200 200 200 200 cioè prendere 5 exchange e mettere 200 per ognuno faccio un esempio in modo che se avete problemi con uno mi rimangono comunque le altri quattro ecco sempre meglio diversificare in questo mondo perché non è un mondo sicurissimo cioè è ottimo fino ad ora sicuro ma non si sa mai nella vita sicuro al cento per cento non c'è mai niente qualcuno mi chiede anche della revolute qui passiamo ad un altro settore cioè non sono più exchange ma sono banche online ne cito magari altri due che io uso oltre a revolute che sono n26 e hype uso anche cosa sono sono banche online dove io posso iscrivermi sempre gratuitamente posso richiedere la carta fisica e fa fare spesa nei negozi nei supermercati inoltre posso caricare questa carta e poi trasferire i soldi di questa carta per esempio ad un escenio cioè senza passare tramite le banche tradizionali intendo cioè le banche online sono ottime per fare questi tipi addirittura alcune danno il cashback poi altre per esempio io uso molto n26 anche revolute ma n26 la uso per esempio all'estero perché ogni volta che voi cambiate valuta non pagate commissioni quindi io posso andare e ritirare dollari ritirare franchi svizzeri ritirare non lo so lei rumeni in qualsiasi parte del mondo senza pagare commissioni almeno se non hanno cambiato ultimamente comunque sono ottime carte di banche online bene se pensi che questa rubrica sia utile e pensi che il vaso di pandora stia facendo un lavoro importante per la tua informazione e perciò meriti il tuo aiuto allora sostienici con la tua donazione ti ricordo che il vaso di pandora è demonetizzato da youtube l'esistenza e la crescita di questo canale dipendono solo da te trovi qui sotto in descrizione il link per la tua donazione passiamo all'argomento del giorno oggi facciamo un po' di operatività più che operatività facciamo vi dirò 4, 5, 6 cosine che servono per cominciare ad entrare negli ingranaggi dell'exchange allora le messe a rendita sono di tanti tipi tanti sistemi dipende dalla criptovaluta che andiamo a mettere a rendita dipende dall'exchange le messe a rendita di solito sono lo staking e deal farming quindi si vanno a mettere delle criptovalute a deposito che può essere un deposito bloccato o un deposito diciamo così flessibile cosa vuol dire questo mi spiego meglio traduco io posso ho mille euro di stable coin mille dollari di stable coin una stable coin ne ho mille le deposito per esempio per 60 giorni e mi danno il 7 per cento per quei 60 giorni non posso usare questo stable coin sono bloccate questo è un tipo di deposito poi c'è il deposito flessibile che naturalmente mi danno un po' di meno tipo mi danno non so il 3 per cento il 4 per cento però è flessibile quindi io le posso togliere in qualsiasi momento in qualsiasi momento posso usare queste table coin per comprare altre criptovalute perché si fa questo perché per esempio può succedere che il bitcoin cali di prezzo e io abbia bisogno di acquistarlo perché so che in quel momento il bitcoin va acquistato per guadagnarci poi nella sua risalita quindi opto per un deposito flessibile mentre deposito bloccato se io lo tolgo quindi si può comunque toglierlo ma perdo tutti gli interessi ecco questo è poi ci sono altri tipi di deposito c'è il farming in cui io deposito una criptovaluta e ottengo in cambio un'altra criptovaluta per esempio diversa mentre lo staking comunque mi ridà nella stessa criptovaluta che ho messo a rendita cioè se io metto a rendita il bitcoin al 4 per cento mi danno quel 4 per cento in bitcoin se metto la stable coin in deposito mi danno quella percentuale in stable coin quindi nella stessa criptovaluta c'è la possibilità di avere per esempio mettere una criptovaluta in deposito e avere un'altra criptovaluta come percentuale di rendita le rendite vi ripeto sono sempre annuali su base annuali e quindi anche quello devo guardare ci sono exchange ci sono posti dove la percentuale me la danno giornaliera settimanale e sigla ci sono anche altre possibilità per esempio c'era la possibilità di chiedere un prestito anche a questi exchange io vi dico un po' due o tre dopo magari la prossima volta ne facciamo altre due o tre prestito come si fa si dà collaterale una criptovaluta e si prendono dei dollari in prestito quindi io per esempio faccio un esempio ho 3000 euro 3000 dollari in bitcoin e mi servono 1000 però non voglio vendere il mio bitcoin perché so che quei 3000 dollari diventeranno 4000 5000 6000 perché il bitcoin è in un momento buono e sta per salire quindi io non voglio venderlo cosa faccio lo metto a garanzia quindi metto quei 3000 dollari a garanzia in questi queste banche che sono diciamo così preposte al prestito e diciamo così alla messa a garanzia delle criptovalute metto quei 3000 dollari di bitcoin e mi danno 1000 dollari dopodiché i 1000 dollari posso portarmi nel mio conto corrente e usarli per comprare qualcosa per fare una visita medica per un'emergenza sanitaria per un'emergenza momentanea eccetera dopodiché quando li vado a restituire mi ridanno indietro i 3000 dollari di bitcoin che ho messo a garanzia perché si fa questo perché magari quei 3000 dollari che ho messo a garanzia sono diventati 4000 quindi quei 1000 che ho preso in prestito e li ho usati praticamente mi ritornano mi ritornano come non avessi chiesto niente insomma ecco quello è il senso del prestito o comunque chi vuole tenere una criptovaluta e non la vuole vendere può usare questo sistema dopodiché io passerei anche alla blockchain proprietaria di Binance quindi per chi entra su Binance Binance ha la sua blockchain non è solo Binance per esempio c'è anche Wobi Global ci sono altri exchange che hanno la loro blockchain questo perché perché questi vi ho detto l'altra volta ci sono cominciamo a fare un passetto in più allora io ho detto il treno la blockchain è un treno merci quindi siamo partiti con il treno merci dopodiché abbiamo cominciato a chiamarla blockchain e adesso la chiameremo da ora in poi rete blockchain rete piano piano facciamo il passaggio quindi Bitcoin ha la propria rete Ethereum ha la propria rete Matic ne dico un'altra che non l'abbiamo detto l'altra volta ha la propria rete e la propria rete Matic ha la sua rete si chiama Polygon una cosa in più che aggiungiamo quindi Bitcoin avendo la propria rete che vi ho detto è cara Ethereum ha la propria rete che è cara Binance ha pensato di fare una propria blockchain dove si possono scambiare Bitcoin, Ethereum e tutte le altre cripto a costi minimi però c'è un però che ve lo dico subito e magari la prossima volta poi lo spieghiamo meglio quando io scambio Bitcoin nella rete proprietaria di Binance quindi la Binance Smart Chain risparmio certo quindi porto il Bitcoin per esempio sul wallet con cifre bassissime porto l'Ethereum sul wallet con cifre bassissime però bisogna fare attenzione che non sono veri Bitcoin non sono veri Ethereum quindi sono magari andate nella Binance Academy sono e qua devo dire la parolina tecnica purtroppo sono wrappati quindi posso tramite la blockchain la rete Binance Smart Chain trasferire Bitcoin, Ethereum e tutte le criptovalute anche diciamo così costose a pochi centesimi però le devo usare soltanto in questa rete quindi solo sulla Binance Smart Chain è un po' complicato ma piano piano capirete il problema quindi cosa devo fare? Devo fare attenzione a non usare questa rete proprietaria di Binance per esportare Bitcoin o gli Ethereum su altre reti cioè su altre reti nel senso sulla loro rete quindi quando devo portare i Bitcoin su per esempio BlockFi o Celsius non posso portarli con questa rete devo usare la rete Bitcoin e la rete Ethereum perché dall'altra parte in quest'altro exchange in quest'altro intermediario devono arrivare Bitcoin veri devono arrivare Ethereum veri o altre criptovalute comunque quando si usa la Binance Binance si può da Binance a wallet, da wallet a Binance si può usare la Binance Smart Chain quindi con questi diciamo così finti Bitcoin, finti Ethereum finti nel senso che uso una rete diversa ma il Bitcoin è Bitcoin chiaramente quando invece questi Bitcoin, questi Ethereum, queste criptovalute le devo spostare su un altro exchange che non è Binance devo fare attenzione che siano spostati con la rete proprietaria di quelle criptovalute quindi ripeto, se io devo spostare Bitcoin da Binance ad un wallet che può essere, ne dico anche alcuni cominciamo a dire qualche wallet Metamask per esempio, il più usato o Trust Wallet hanno al loro interno la rete Binance Smart Chain questa rete economica di Binance è un altro motivo per cui vi faccio usare Binance che è molto più semplice quindi se io devo portare Bitcoin da Binance al mio wallet quindi voglio tenerli io posso usare questa rete e spendere pochissimo stessa cosa per Ethereum mentre se devo mandarli ad altri exchange devo fare attenzione il trasferimento facciamo quest'ultima cosa poi per oggi penso che basti così allora abbiamo detto freno merci, blockchain, rete quindi siamo sulle reti come si fa il trasferimento su una rete da un posto all'altro allora ci sono due sistemi basta per fare un trasferimento di criptovaluta fate attenzione comunque ve lo rispiego anche la prossima volta lo ripetiamo perché è un passaggio importante bisogna andare sull'exchange o sul wallet o sul posto un posto qualsiasi dove dovrà arrivare questa cripto e prendersi e copiarsi l'indirizzo ok? quindi si fanno due cose si sceglie il posto dove deve arrivare quindi l'indirizzo dove si deve arrivare e si sceglie la rete dove mandare questa criptovaluta quindi per esempio se io ho un wallet e oppure facciamo da exchange a exchange ho un exchange e devo trasferirlo ad un altro exchange vado sull'exchange di arrivo mi prendo il codice guardo che ci sia la rete che sia la stessa rete di dove spedisco quindi vado nel wallet di arrivo prendo l'indirizzo guardo che sia la stessa rete me lo copio l'indirizzo dopodiché vado nel exchange di partenza da dove voglio trasferire le criptovalute metto quanta criptovaluta voglio trasferire metto l'indirizzo che ho preso dall'exchange di arrivo e poi metto la rete scelgo la rete controllando che dall'altra parte abbia la stessa identica rete perché vi ho detto che da exchange a exchange bisogna usare la rete proprietaria di quella valuta sempre con il solito discorso che vi ho fatto l'altra volta quindi se dovete trasferire bitcoin a una rete a una rete se dovete depositare bitcoin dall'altra parte e non potete cambiarli trasferite bitcoin se dall'altra parte è un exchange non trasferite bitcoin prendete per esempio che ne dico un'altra tron cambiate bitcoin in tron dopodiché li mandate all'altro exchange con l'indirizzo di tron e la rete di tron dopodiché dall'altra parte quando sono arrivati li ritrasformate in bitcoin quindi trasferite bitcoin da una parte all'altra usando la rete tron le cose importanti sono l'indirizzo corretto e la rete corretta mi raccomando perché se sbagliate rete importantissimo questo perdete le criptovalute ritornando un po' al treno merci è come sbagliare treno che invece che arrivare a Milano se ne va in Svizzera ok quindi exchange ti arrivo indirizzo e rete della criptovaluta che voglio spedire questo indirizzo lo incollo da dove spedisco metto quanta criptovaluta voglio mettere e scelgo la rete dopodiché faccio il trasferimento aspetto un minuto due minuti quello che è dall'altra parte quando mi compare l'arrivo poi la ritrasformo o la lascio così insomma ecco il trasferimento è questo ma lo ripeteremo ok buona giornata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.